Nauela ripartiamo dal match di Pescara un match che ha partorito un pareggio però col senno di poi vista la pressione del finale l'occasione di Ninkovic nonostante l'espulsione di Delia potevano arrivare anche tre punti sì sì è stato è stata una partita molto diciamo intensa loro hanno avuto le occasioni soprattutto al primo tempo nel primo tempo e noi abbiamo anche avuto tante altre che magari non sono arrivati abbiamo fatto una bella gara tante opportunità non sono arrivate a concludersi bene però siamo stati in partita e penso che che possiamo fare meglio meglio ancora dobbiamo continuare a lavorare con testa bassa e con umiltà perché perché questo è un campionato molto difficile. Come ti sei trovato con il capitano Padella che ha risposto presente con la squalifica di Brusco ed è stato protagonista di un salvataggio incredibile negli ultimi minuti? Sì no bravo Padella è stato quel salvataggio è stato fondamentale. No molto bene lui è un bravissimo giocatore soprattutto una bravissima persona anche quindi penso che in questa squadra tutti possono giocare se ha visto entra su ventro un altro e tutti fanno bene. Penso che il fatto che c'è una mentalità di squadra fa che ognuno sappia il lavoro che deve fare. Parlavamo appunto di questo pareggio che poteva essere una vittoria però abbiamo ripreso a far punti ora arriva lo Spezia e in casa dopo il passo falso col Padova bisogna provare a tornare alla vittoria. Sì sì non sarà facile ovviamente qua siamo in casa e dobbiamo imporre il nostro gioco però Spezia è una squadra molto difficile attrezzata per entrare in playoff con grandissimi giocatori e quindi dobbiamo fare una gara intelligente e mettere del nostro e non lasciare loro di fare il suo gioco. Tu sei un ex nella partita particolare tre anni allo Spezia. Giocasti quella partita di fine dicembre in cui lo Spezia di Di Carlo perse 3 a 0 qui al Del Duca con i gol di Petagna, Cacia e Iancto. È una partita molto importante bisogna cercare di far punti e per te come detto emozioni particolari. Sì sì veramente Spezia ovviamente nel calcio uno ha momenti di difficoltà però sono stati tanti momenti felici a Spezia diciamo abbiamo fatto grandi imprese siamo entrati questi tre anni in playoff e quindi ricordo Spezia lo porterò sempre nel mio cuore perché è una società molto seria e che lavora molto bene e ad Ascoli ho trovato quella sincronia veramente quello mi è piaciuto tanto perché vedo che la società di Ascoli sta crescendo tantissimo ogni giorno e quindi ora mi devo a questa maglia è un onore per me indossarla e dobbiamo fare di tutto per vincere la partita. Quali sono i loro punti di forza? Una squadra che ha qualche problemino perché Galabinov, Terzi, Maggiore, anche Crimi hanno dei problemini fisici ma hanno un organico di primissimo livello hanno un punto più di noi in classifica. Sì loro hanno la forza di una squadra che gioca bene al calcio, gioca bene al calcio e c'erano davanti Galabino, Bocchereche e Vidaui che sono giocatori per la categoria molto bravi anche magari di Serie A e quindi dobbiamo stare molto attenti perché non è facile giocare contro di loro ma noi abbiamo anche le nostre caratteristiche importanti e dobbiamo far valere più queste. Tornando al match di Pescara quanto è stato bello quel boato dei tifosi bianconeri 2000 allo storio Adriatico nel momento del gol di Erdemagna e quanto siete felici per lui dopo due mesi molto difficili? Siamo molto contenti per ritrovare il nostro Womber, veramente lui si lo merita tanto come persona ma anche come giocatore perché sempre dà il 100% in tutto quello che fa e veramente ho sentito l'intervista di Rossetti che ha detto che si sentiva veramente come se eravamo in casa e è stato veramente così perché questo urlo del gol di Erdemagna è stato molto sentito e ha azitito lo stadio del Pescara. A livello personale sei soddisfatto? Ormai sei un pilastro di questa squadra? Sì sono soddisfatto, grazie a Dio ho potuto giocare le mie partite ovviamente penso che sempre uno può far meglio, sto crescendo l'anno scorso che non ho giocato quasi nulla mi ha costato all'inizio magari entrare in ritmo per ora sto ritrovando il ritmo e quello mi fa sentire molto bene anche. Noi possiamo arrivare a Naguel, è una classifica molto corta, siamo in undicesima posizione lo so che voi dite bisogna guardare partita per partita ma l'impressione è che questa squadra abbia un potenziale altissimo. Io penso che se continuiamo a lavorare come squadra ci sono delle opportunità grandi possiamo toglierci delle soddisfazioni importanti però abbiamo visto che quando magari non facciamo le cose nel modo giusto ci sono partite come quella del Padova che le cose non riescono a uscire come vogliamo quindi dobbiamo essere molto attenti perché come hai detto tu è una classifica molto corta, sei a un punto da lì su ma anche dietro sono lì quindi secondo me dobbiamo crederci fino alla fine, questa è la mentalità della squadra e cercare di ogni partita dare il massimo come squadra penso che lì ci toglieremo soddisfazione.